La Valle Pelligna si prepara ad accogliere centinaia di persone che prenderanno parte dal 26 al 28 aprile alla Spring Endurance Cup 2013. Il merito dell'iniziativa, come ogni anno, va alla SD i Cavalieri dell'Antera di Vittorito, che anche quest'anno regaleranno al territorio peligno una delle gare più importanti della stagione Endurance in uno dei percorsi più belli d'Italia. In programma tre categorie internazionali, il campionato italiano assoluto Juniors e Young Riders e una tappa del campionato Assi. A correre sabato 27 aprile per il campionato italiano assoluto Juniors, i giovani cavalieri sulla distanza di 124 km. Un'altra competizione di 160 km, valevole come selezione per gli europei senior di questa disciplina, e infine la CEI 1 sulla distanza di 90 km. Domenica 28 si disputerà la prima tappa del trofeo Assi per la valorizzazione del cavallo, nato e allevato in Italia, e le categorie regionali. Il percorso che parte da Vittorito attraversa la Valle dell'Aterno, tra le riserve naturali e le esorgenti del Pescara e delle gole di San Venanzio, attraversando i già noti percorsi della palestra dell'Endurance, dal 26 al 28 aprile vedrà correre la Vittorito Spring Cup, maratona a cavallo di carattere internazionale. Per l'organizzazione della competizione è stata fondamentale, scrive l'associazione in una nota, la collaborazione di tutti i membri del comitato organizzatore, con il sindaco Carmine Presutti in testa, e dei numerosi sponsor che hanno sostenuto l'evento. Appuntamento il 26 aprile, dunque, presso il campo sportivo di Vittorito.